La Regione Piemonte investirà 50 milioni di euro per abbattere le liste di attesa e così recuperare le prestazioni che i due anni di pandemia hanno rallentato. La somma arriva dallo Stato per 36 milioni e per il resto da altre risorse ed economie. E i fondi verranno usati per incrementare l'offerta, potenziare al massimo le prestazioni che il sistema pubblico regionale è in grado di erogare, integrandole con il privato. Un bando per nuovi accreditamenti è stato pubblicato proprio oggi. Intanto la Giunta regionale sta anche lavorando a un disegno di legge da approvare in Consiglio regionale in tempi rapidi, in modo da dare un inquadramento normativo solido a questa misura straordinaria, strettamente collegata alla pandemia. La sfida, spiegano il Governatore Alberto Cirio e l'Assessore regionale Luigi Icardi, è riuscire ad azzerare le attese entro la metà del 2023. Sarà fatto un monitoraggio serrato, come quello usato per la buona riuscita della campagna vaccinale. La verifica dell'avanzamento nelle prestazioni sarà settimanale, con un sistema di penalità e premialità sugli obiettivi da raggiungere. La Regione sarà in costante affiancamento e supporto alle aziende sanitarie, chiamate a questo nuovo grande sforzo fondamentale per la sanità territoriale.